benissimo dovremo essere live e allora visto che dovremmo esserci buonasera buonasera tutte le persone che ci ascoltano buonasera alle persone che sono qui nella stanza di zoom con me e tra poco vi presenterò una una appunto e gli interlocutori di stasera le interlocutrici io sono federico faloppa coordinatore della rete nazionale per il contrasto i discorsi e fenomeni d'odio e stasera ho il piacere di introdurre il webinar il nuovo webinar della serie dialoghi in rete che va a concludere un ciclo che è iniziato ormai sono sei mesi di webinar che hanno affrontato il tema dei discorsi d'odio da diversi punti di vista e anche con molti ospiti che ci hanno portato le loro testimonianze e la loro conoscenza e consapevolezza dei fenomeni stasera in particolare parliamo di utoria o meglio per non dimenticare a dieci anni dalla strage di utoria che cosa successe dieci anni fa ma siamo in in un mese in una settimana di ricorrenze tutti i giornali e meno male ricordano genova quindi vent'anni fa ricordano quella 2001 quel luglio del 2001 ma nel luglio del 2011 successe un altro evento molto traumatico meno ricordato anche perché appunto molto doloroso da ricordare ma certamente è traumatico per una generazione una generazione di giovani e certamente che ha segnato certamente un punto di svolta anche purtroppo nel legame tra discorsi d'odio incitamento all'odio e crimini d'odio addirittura appunto l'omicidio plurmo che cosa successe il 22 luglio del 2011 due attacchi terroristici avvennero in norvegia quasi contemporaneamente prima esplose un'autobomba nel centro di oslo morirono otto persone e 209 furono i feriti l'autobomba fu posta nel quartiere delle dei ministeri nel quartiere governativo per cercare di così dissi l'attentatore avrebbe detto l'attentatore un anno dopo il processo di dare un chiaro messaggio al governo norvegese e questo chiaro messaggio purtroppo venne reiterato ripetuto sull'isola di utoia poco dopo questo attentato appunto con l'autobomba nel centro di oslo che cosa successe utoia in quel pomeriggio del 2011 del 22 luglio 2011 in un campus organizzato dalla sezione giovanile del partito laborista norvegese vennero trucidate uccise 69 persone e vennero ferite appunto diverse mi pare un centinario di persone adesso non ricordo esattamente il numero da un attentatore un attentatore che era mascherato diciamo così che sia mascherato da poliziotto e che aveva portato con sé delle armi automatiche appunto per fare una strage l'attentatore anders brevnik era anche il responsabile dell'autobomba che esplose a oslo appunto lo stesso giorno poche ore prima brevnik stesso al processo del 22 giugno del 2012 in quella seduta disse che aveva compiuto quegli atti per mandare e cito quasi testualmente un messaggio forte al popolo per fermare i danni del partito laborista e per fermare disse brevnik a processo la decostruzione della cultura norvegese a causa dell'immigrazione di massa dei musulmani e cito appunto letteralmente quello che disse brevnik poco prima della strage brevnik anche diffuse un memoriale 2083 una dichiarazione europea di indipendenza questo era il titolo del memoriale e lo diffuse dalla sua pagina facebook e dai suoi canali anzi anche su youtube non sono su facebook lo diffuse per cercare di a suo modo spiegare le ragioni di quei gesti e appunto anche per legare la sua teoria diciamo così il suo ragionamento ragionamento che secondo lui stava dietro quegli attentati agli atti stessi agli atti di sangue a questa strage appunto che ha ucciso 77 persone in quel giorno di luglio del 2011 stasera a discuterne con noi a cercare di capire che cosa è successo quali sono stati gli effetti che cosa ha lasciato quell'attentato in termini di trauma collettivo di ricostruzione della memoria e della necessità di ricostruire una memoria basata sui fatti ma anche sul diciamo così sul trauma di quel giorno e anche sulle sfide presenti rispetto ai discorsi d'odio i crimini d'odio ecco con noi stasera ci sono quattro interlocutori interlocutrici che io introdurrò tra poco è con qualche parola appunto di presentazione ma intanto faccio i loro nomi partendo da debora barletta che sarà la prima persona che ci racconterà appunto dal suo punto di vista che cosa ha significato quell'evento per continuare poi con leonardo bianchi e quindi isabella borrelli e per finire con matteo botto vi dirò tra poco che sono queste persone presentandole una una e sperando appunto di dare degli elementi delle informazioni non solo sui loro percorsi ma anche che leghino diciamo la serata di stasera un ragionamento più ampio di sull'attivismo giovanile sul modo in cui dobbiamo ragionare in questa intorno a questi temi e io a questo punto passo la parola debora barletta che non solo appunto è cofondatrice insieme agli altri soggetti di questa rete che ricordo tra l'altro è stata fondata quasi un anno fa siamo stiamo quasi compiendo un anno di fondazione di questa rete l'abbiamo lanciato ufficialmente proprio a metà luglio del 2020 e appunto abbiamo già fatto diverse cose insieme con debora e con tutte le altre persone coinvolte ma debora ripeto è anche coordinatrice di noi speech movement italia e attivista e tra l'altro appunto debora incomincia a ragionare su che cosa ha significato anche a livello europeo quello che è successo e su alcune delle domande che dobbiamo su cui dobbiamo ancora riflettere a cui dobbiamo ancora dare delle risposte debora grazie grazie anche per aver coordinato questa serata e per aver invitato gli ospiti e le ospiti che tra poco presenterò grazie a te la parola grazie mille federico grazie alla rete appunto di cui la campagna che rappresento fa parte con orgoglio perché appunto è uno strumento importante nel contrasto ai discorsi d'odio ma grazie anche al panel appunto agli ospiti che abbiamo qui con noi questa sera perché è fondamentale parlare di utoia e parlarne appunto in quella che è la vigilia appunto come ci ricordava federico il 22 luglio del 2011 si è compiuta questa orribile strage e appunto la campagna che rappresento è sempre stata molto legata a questa strage perché fu proprio anche in seguito a ciò che è successo a Lutoia che la comunità europea di youth workers di attiviste attiviste decise e capì che c'era bisogno di agire quello che riguardava i discorsi d'odio online nel speech perché appunto se una persona giovane da sola era in grado di appunto radicalizzarsi di armarsi online di contere una strage con due attacchi addirittura paralleli che hanno causato la morte di settantasette persone probabilmente un problema in cui germi appunto ai noi erano eh già in atto da eh da molto appunto che stava sfuggendo un po' di mano e come dicevo appunto la campagna che rappresento il noi speech movement internazionale appunto rappresento la compagina italiana eh agì in reazione anche di questa strage ma il motivo per cui è importante essere qui eh questa sera eh dell'importanza appunto di avere uno spazio ehm all'interno del quale parlare di ciò che è successo e appunto di ciò che ha causato la tragedia di Udoia e anche perché ehm come quello che eh appunto ha a che fare in generale con i discorsi d'odio non è importante solo reagire ma anche agire in maniera proattiva e costruttiva e eh banalmente ma forse non troppo appunto tu hai già citato quelli che sono appunto gli eventi legati al G8 e a un altro evento tragico la cui memoria appunto ha un ruolo fondamentale quella che è la costruzione eh anche di un paese delle giovani coscienze ehm appunto abbiamo bisogno di agire in maniera attiva proprio nella costruzione della memoria eh una costruzione della memoria che sia appunto collettiva perché la memoria è un ingranaggio collettivo che eh appunto quando costruita eh con l'ascosto con confronto aperto è allora uno strumento prezioso di costruzione positiva altrimenti diventa un mero strumento di manipolazione che purtroppo eh ci troviamo a eh vedere eh giorno dopo giorno. In questo è sicuramente fondamentale la lezione che ho citato alla Norvegia e ho avuto il privilegio questa mattina di partecipare a un altro evento commemorativo con noi speech network internazionale appunto in presenza anche di della rappresentanza del Consiglio d'Europa e c'erano due rappresentanti sia della eh Youth Workers League norvegese che come sappiamo era uno degli obiettivi principali dell'attacco di Utoia eh e anche di un'altra associazione eh appunto eh giovanile norvegese che hanno condiviso quali sono state le azioni di questo paese eh nei confronti della tragedia perché molto spesso una eh diciamo una una reazione naturale quella di rabbia e quella di eh di appunto di voler magari eh spaccare il mondo oppure di di voler erigere diciamo eh paletti di di fare azioni anche diciamo di eh di valore simbolico molto ampio ma che eh di fatto che sono vuoti. La Norvegia invece ha fatto un'operazione molto importante di interrogazione della comunità innanzitutto giovanile eh quindi le associazioni la Youth Workers League ma anche le altre sono state coinvolte attivamente nel processo di ricostruzione a partire dall'isola di Toia ma anche appunto della comunità tutta e hanno fatto un percorso di spirito critico di analisi che appunto ha portato le persone giovani in diciamo eh ad aprire la pista per riflessioni nuove ad esempio eh si parla di come la Norvegia sta puntando molto sull'educazione anche spesso eh è diventata un po' una parola quasi retorica quella educhiamo eh le nuove generazioni eccetera ma l'educazione da sola non basta anche perché diciamo anche l'educazione può essere manipolata ma c'è bisogno in realtà appunto di un confronto che sia attivo aperto e onesto. Onesto perché appunto c'è bisogno di autocritica ed è particolarmente importante per me essere riusciti e riuscite ad avere questo panel eh questa sera perché comunque siamo in un paese eh in cui quello del problema del suprematismo dell'estremismo di un certo tipo viene ampiamente sottovalutato eh e di recente pubblicazione giugno duemilaventuno appunto un record su quelli che sono stati gli effetti nel discorso pubblico in vari eh appunto sia per giornali che nel mondo dei forum online appunto di quello che eh sono state le azioni di Breivit Trump soprattutto del suo manifesto e noi siamo in uno dei pochi paesi insieme alla Francia in cui un politico si è permesso di dire apertamente che appunto le azioni di Breivit per quanto troppo eccessive eh fossero tutto sommato condivisibili è un qualcosa di gravissimo e siamo in un paese in cui di fatto l'unico diciamo attacco terroristico interno appunto è stato causato da una persona italiana radicalizzatosi sempre online appunto di stampo suprematista quindi sono contenta che abbiamo eh con noi Leonardo, Isabella, Matteo cantano un po' nel dettaglio di questi fenomeni di cosa succede eh appunto perché è importante eh sapere ma sapere non solo per constatare e appunto acquisire consapevolezza ma appunto per forci quelle domande necessarie a ricostruire e a costruire in maniera positiva e ad attenzionare certi fenomeni perché appunto ehm e appunto con i nostri e le nostre paneli sarà diciamo possibile capire come queste cose non cadono in vuoto l'odio non si genera eh nel vuoto si alimenta di vuoto ma bisogna delle strutture per eh per appunto eh diciamo erigersi e per diventare forte e quindi noi dobbiamo affrontare certi problemi in maniera strutturale e sistemica e possiamo farlo solo se appunto più persone partecipano al dialogo più persone si attivano quindi noi siamo qui per aprire questo spazio di confronto per invitare persone a mettersi in contatto lo diceva già Federico noi abbiamo la rete con un strumento preziosissimo quindi parliamo di queste cose e parliamo facciamolo bene e cerchiamo di costruire insieme delle alternative e appunto a sraditare eh questo tipo di strutture che alimentano l'odio e quindi generano poi mostri e eh crimini quindi direi che ho finito eh e lascio la parola appunto non vedo l'ora di ascoltare il nostro panel e quindi grazie ancora grazie grazie a te Deborah per questa introduzione un'introduzione nella quale tra l'altro hai ricordato sia le testimonianze delle organizzazioni giovanili norvegesi e mi sembra fondamentale cercare di capire quale sia stato il processo all'interno di quel paese per ehm ridiscutere quei fatti per cercare di contestualizzarli anche per cercare di capire e fu questo uno dei traumi oltre ovviamente alle persone all'uccisione delle persone cercare di capire come un paese come quello che aveva lavorato molto sulla tolleranza sull'apertura anche sull'accoglienza invece fosse stato capace di produrre eh un attentatore come Breivik e appunto anche il suo manifesto non soltanto lui ma quel tipo di idea di eh di background diciamo così ideologico tra l'altro va la pena ricordarlo a processo eh l'attentatore prese la pena massima 22 anni ma semplicemente perché la Norvegia non aveva appena detentive maggiori di quella non avevano non avevano previsto ecco una gravità tale eh eh dal punto di vista penale come quella che poi si è verificata nel luglio del 2011 quindi anche un'intera società anche un ordinamento giuridico ma un'intera società che si confronta con quella quei fatti così gravi con quell'omicidio plurimo con quella strage anzi come è stata giustamente chiamata e con i traumi che ha lasciato ma anche con i tanti interrogativi che ha lasciato sul piano appunto del sistema paese e quindi come fa un paese a ricostruirsi e a costruire una memoria condivisa una condanna unanime di quegli eventi dopo quello che è successo e Deborah giustamente ci ha ricordato che purtroppo non sempre la condanna è stata unanime in Europa malgrado la gravità di quello che è successo quindi io ti ringrazio Deborah per questo tuo iniziale contributo e lascio la parola invece per il primo approfondimento a Leonardo Bianchi e lo presento brevemente Leonardo Bianchi giornalista e blogger e news editor di Vice Italia eh ha collaborato e collabora tra gli altri con Valigia Blu internazionale dal 2008 scrive di politica attualità e cultura anche sul suo blog La Privata Repubblica ha pubblicato un articolo importante che è legato strettamente a quello di cui stiamo discutendo stasera l'articolo in qualche modo brevi ancora e ancora lì fuori la globalizzazione del terrorismo bianco a dieci anni dal massacro di Utoria e l'ha pubblicato su Valigia Blu e proprio per questo motivo io chiedo a Leonardo Bianchi di aiutarci ad approfondire questo tema sia sul piano diciamo così storico cioè quello che è successo e quello che ha lasciato quel trauma e quegli eventi e sia anche però sul piano del presente cioè perché Breivik è ancora lì fuori? Leonardo Bianchi grazie intanto per essere qui con noi e a te la parola eh intanto innanzitutto grazie dell'invito a parlare di queste cose e buonasera a tutti e tutte gli ascoltatori e ascoltatrici e dunque quello che è successo dieci anni fa ha radici sia nel decennio precedente alla strage che ed è una cosa che ha prodotto effetti e li sta producendo ancora adesso perché allora la cosa la cosa più importante da dire è che Breivik non è il primo terrorista di destra chiaramente ma è il primo terrorista di estrema destra che agendo da solo arriva ad un tale livello di distruzione devastazione e di vittime e quindi la sua l'aspetto tragicamente innovativo della strage di Utoria e di Oslo è che una sola persona politicamente motivata è riuscita a fare una cosa del genere quindi la sua innovazione non è tanto ideologica perché appunto nel suo manifesto di oltre 1500 pagine non c'è nulla di nuovo è anzi quasi tutto è a livello ideologico è copiato proprio ma non nel senso di ispirato è proprio copiato con copia in colla da computer soprattutto da un blogger norvegese di estrema destra che si chiama peter jensen nickname fjordman che tra l'altro è una delle persone a cui Breivik ha spedito in anteprima il il manifesto via mail e poi ricicla una serie di teorie del complotto ad esempio quella di eurabia cioè l'idea che ci sia in corso un'invasione e una colonizzazione religiosa da parte dell'islam che trasformerebbe l'europa in un continente islamizzato appunto e altre cose come il marxismo culturale cioè un'altra teoria del complotto antisemita secondo cui la scuola di francoforte che era appunto quella scuola filosofica e di pensiero degli anni 30 formata principalmente da accademici ebrei marcus adorno eccetera in realtà sia una specie di disetta di lobby che ha diciamo influenzato tutto il corso della della politica e della cultura in europa negli stati uniti e un'altra teoria del complotto è quella del genocidio dei bianchi o della sostituzione etnica cioè a teoria secondo cui i flussi migratori in realtà non sarebbero non sono frutto di fenomeni complessi interconnessi tra loro ma sono una cosa pianificata a tavolino da elite europee e ovviamente c'è sempre ci sono sempre gli ebrei di mezzo da soros ad esempio per anacquare l'identità nazionale dei paesi europei e sostituire etnicamente i diciamo gli europei di ceppo le autoconi con popolazioni di altre culture di altre tendenze eccetera eccetera e quindi questo non è questo sono tutte le cose che si trovano nel manifesto di brevick ma appunto l'aspetto più inquietante e innovativo di brevick è che nel quel manifesto cioè anzi la strage come ha detto brevick stesso era una specie di lancio promozionale per il manifesto cioè con la strage brevick non solo voleva colpire neanche le minoranze ma voleva colpire quelli che lui riteneva i traditori principali cioè i socialisti o comunque quelli che secondo lui annacquavano e distruggevano l'identità norvegese ed europea ma quel manifesto serve cioè nell'inizione di brevick la strage serviva a lanciare col manifesto e quel manifesto contiene delle vere e proprie linee guida operative per far sì che chiunque dopo di lui avesse una specie di manuale per commettere stragi e questo sta in questo l'aspetto innovativo di brevick che lo differenzia da lo differenzia completamente dal terrorismo di estrema destra gli anni 60 e 70 che abbiamo vissuto anche in italia e altrove perché quello sprendiamo il caso di ordine nuovo ad esempio quella era una struttura paramilitare finanziata o comunque sostenuta da forze nato e da una parte ai servizi qua invece abbiamo una persona che non appartiene abbiamo un modello di terrorista che non appartiene a nessuna organizzazione che magari è stato vicino a delle organizzazioni dei partiti politici brevick per un periodo è stato nel partito del progresso che è il partito dell'estrema destra populista norvegese e però poi ne è uscito e quindi non ha legami diciamo operativi con gruppi strutturati e organizzati gerarchicamente ma è piuttosto un qualcuno che agisce si muove da solo ma questo però questo è un altro aspetto innovativo non vuol dire che a differenza di come si descrivono sempre i terroristi di estrema destra sono dei lupi solitari che agiscono da soli e basta se è vero da un lato che agiscono da soli proprio operativamente nel senso operativo cioè costruiscono le bombe da soli eccetera però dietro un lupo c'è sempre il branco e il branco è quello che fornisce l'ideologia le connessioni il sostegno anche volendo e anche in modus operandi quindi brevick ha fatto questo ha dato con il suo manifesto ha creato ha lasciato un manuale per aspiranti terroristi e tant'è che in una in una lettera scritta dal carcere ad un'altra terrorista neonazista che si chiama beate sciape che la faceva parte faceva parte di una cellula neonazista che ha agito impunemente da dalla fine degli novanta all'inizio del diciamo più o meno all'inizio degli anni dieci che clandestinità nazionalsocialista che ha operato in germania è conosciuto come la la banda idritte il kebab e in una lettera che brevick ha scritto a questa sua collega chiamola così ha detto proprio esplicitamente e guarda adesso ancora non capiscono quello che stiamo facendo però sappi che noi siamo saremmo riconosciuti come dei martiri della rivoluzione conservatore nazionalsocialista che viene in europa e quindi siamo le prime gocce di una tempesta purificatrice che si sta battendo sull'europa ecco quella lettera del 2012 e purtroppo va detto che se da un lato negli ambienti dell'estrema destra brevi che è stato accantonato non ha lasciato nessuna eredità perché comunque un atto del genere enorme anche per chi la pensa esattamente come brevi dall'altro proprio per quelle è stata una fonte ispirazione per quelle figure di attentatori solitari tra virgolette che hanno cercato di replicare e di arrivare al nel gergo del dei forum dell'estrema destra si dice il suo punteggio tipo high score come come fosse un videogioco appunto e quindi abbiamo avuto dal 2011 oggi tutta una serie di tentatori non necessariamente motivati politicamente però la maggior parte motivati politicamente che hanno proprio preso brevi cioè si rifanno all'esempio di brevi chiamandolo ad esempio comandante brevi o santo brevi o cose di questo genere chiaramente adesso non li sto ad elencare tutti perché sono tantissimi ma quello chiaramente più quello che ci è arrivato più vicino al punteggio quello che ha fatto ha creato più devastazione è chiaramente l'attentatore di christchurch che ha ucciso più di 50 persone in un doppio attacco a moschea al centro islamico in nuova zealand e anche lui ha lasciato un manifesto che ha pubblicato che ha pubblicato in anteprima e postandolo su itchan e quindi su delle image board frequentate principalmente da estremisti di destra e non solo e e rispetto a brevi che c'è stata un'innovazione in più perché comunque brevi l'ha fatto nel 2011 l'attentato e non c'era la stessa tecnologia che c'è adesso comunque c'è anni fa e quindi non era riuscito a trasmettere in diretta l'attentato aveva fatto delle prove ma all'epoca non c'erano esempio di facebook non esiste twitch non esisteva non esistevano le piattaforme di streaming come ci sono adesso brevi che tarant che l'attentatore di christchurch invece l'ha fatto e ha trasmesso in diretta tutto l'attentato su in diretta su facebook quindi questa è stata un'altra rinnovazione rispetto diciamo al modello di brevi ma tarant lo dice proprio esplicitamente nel manifesto di aver letto i manifesti di altri attentato di destra ma che il suo modello principale di ispirazione era appunto il cavaliere templare brevi e poi tra l'altro tarant dice falsamente dice una cosa falsa che però è indicativa di un certo una certa mentalità di questi terroristi bianchi cioè dice che ha avuto ne ha parlato con brevi che ha avuto la benedizione per fare quello che ha fatto chiaramente non è vero però appunto proprio a dieci anni di autoglio appunto come avevo scritto nell'articolo si può dire che appunto le gocce di cui parlava brevi che sono sempre di più purtroppo e il modello diciamo inaugurato da brevi cura finito da brevi che è un modello che è da sicuramente ma fortunatamente marginale da un punto di vista concreto pratico cioè non ci sono tantissimi attentatori di estrema destra che arrivino a quel livello di distruzione ma quello che è quello che sicuramente è cambiato in questi dici anni è che se se nel 2011 l'idea è una cosa che ha detto anche il regista paul green grass che ha fatto un bel film è uscito tre anni fa su 22 luglio quello che ha detto gringas è che se nel 2011 le idee di brevi che erano non del tutto marginali ma comunque erano confinate in un determinato recinto ideologico ben identificato adesso quelle idee sono diventate completamente mainstream perché il solo un esempio nel 2011 di grande sostituzione ne parlavano principalmente grande sostituzione o di genocidio dei bianchi ne parlavano solo dei blog dei forum massimo forcianno comunque in proprio recinti su internet ben delimitati che difficilmente andavano oltre quello steccato adesso ne parlano apertamente politici che hanno anche in carichi di governo un nome su tutti i salvini negli anni scorsi ha usato non so ha menzionato non so quante volte la teoria complotto della sostituzione etnica dicendo addirittura che c'è in corso un genocidio in italia nei confronti della della popolazione italiana lo stesso ha fatto il governatore della lega il governatore della lombardia della lei sempre della lega tiglio fontana quando qualche anno fa disse che appunto bisogna muoversi altrimenti quasi rischia l'estinzione della razza bianca e quindi questo è l'aspetto più inquietante che sta è un altro aspetto inquietante che non solo brevi che ha lasciato un manuale per aspiranti terroristi che quindi con tutte delle indicazioni e quindi proprio un modello a cui ispirarsi per portare all'estremo quelli idee ma che quelli idee sono in qualche modo sono appunto sempre più sono sempre più diffuse e normalizzate questo è il problema che sono normalizzate e sono entrate completamente nel panorama politico nel dibattito politico senza che nessuno si interroghi più da dove vengono e soprattutto sulle conseguenze che possono avere quindi esattamente come il per finire il titolo dell'articolo che ho fatto su volizio blu si riferisce è un rimando diretto a una frase che ha una dichiarazione che ha fatto vilia ransen che è uno dei sopravvissuti di utoia che proprio parlando con il regista di 22 luglio dice io mi rendo conto che brevi che è stato sconfitto in tribunale però allo stesso tempo mi rendo anche conto anche conto che in qualche modo lui brevi che tutto quello che rappresenta è ancora lì fuori e sta diventando sempre più forte grazie grazie per averci aiutato ad approfondire molti aspetti di assoluto rilievo non solo per questa sera per il dibattito di questa sera ma in generale quando parliamo di questi argomenti e mi viene da dire che se come ha detto anche il processo come è stato detto anche nel processo non si sa esattamente bene quale sia la genesi diciamo così che brevi cioè appunto lui agito da solo anche se ovviamente diciamo così il background il sostrato ideologico su cui ha agito poi è stato copiato scopiazzato l'hai ricordato benissimo tu e quindi il diciamo così il passato di brevi che effettivamente arde i lati oscuri ma certamente il presente il futuro cioè quello che lui ha lasciato in eredità purtroppo può essere quasi filologicamente ricostruito cioè tu hai ricordato delle lettere delle delle corrispondenze con altri estremisti e altre estremiste e ricordato l'attentatore di christchurch del 2018 e quindi insomma ci sono degli elementi che ritornano e che purtroppo ritornano anche nel discorso pubblico e politico io faccio un altro esempio rispetto a quelli che hai fatto tu douglas murray un commentatore conservatore che si definisce liberale inglese qualche anno fa ha pubblicato un libro che ha avuto grande successo in inghilterra strange death of europe la strana morte dell'europa in cui sosteneva candidamente l'ipotesi appunto della sostituzione etnica cioè dobbiamo in qualche modo dotarci di strumenti di misure politiche per impedire appunto che la popolazione europea venga sostituita stiamo parlando di un commentatore che scrive sui quotidiani britannici non stiamo parlando di un attentatore quindi evidentemente sul piano filologico purtroppo quel manifesto come altri manifesti hanno lasciato delle tracce e la cosa come hai detto tu leonardo in modo molto chiaro la cosa molto grave ed è per questo che credo sia utile fare il ragionamento di stasera è che chi usa quelle metafore chi usa quelle immagini chi usa quel linguaggio ovviamente non dice dove l'ha preso e purtroppo chi ascolta quel tipo di linguaggio non si ricorda appunto da dove quel linguaggio arrivi e che cosa abbia prodotto anche in termini di vittime e appunto fino alle stragi che abbiamo ricordato quella del 2011 e poi quella di crash quindi leonardo bianchi grazie per il tuo contributo per aver scritto questo importante articolo e per averci aiutato a mettere insieme dei tasselli che vanno messi insieme se vogliamo capire non soltanto quell'episodio ma anche evidentemente gli effetti di quell'episodio sia in termini di terrorismo e purtroppo ci sono ci sono stati sia però anche in termini di discorso e anche di citazioni di quel tipo di manifesto delirante di brevni che ha prodotto quella quello che ha prodotto nel 2011 ma poi è stato fatto passare anche in altre forme con altre formule appunto in discorsi anche pubblici e politici e quindi passo adesso la parola alla nostra prossima ospite che vado subito ad introdurre Isabella Borrelli digital strategies per l'arte creative ma noi l'abbiamo invitata qui stasera soprattutto perché un attivista da tanto tempo un attivista femminista intersezionale lgbt più e anche assistente cultrice della materia presso la cattedra di gender politics all'università luis guido carli quindi anche una studiosa di fenomeni dei fenomeni di cui stiamo parlando stasera da una prospettiva intersezionale e anche vicepresidente di period think tank che è un think tank che ha che ha approvato e anche riuscito a innovare sul piano digitale sul piano dei contenuti appunto quando parliamo di inclusione o di linguaggi più inclusivi ma anche poi appunto sul piano dell'approfondimento e tra l'altro appunto ha lavorato agli stati generali italiani sull'inclusione se non ricordo male Isabella prendendo spunto dalla tua nota biografica Isabella allora aiutaci ad aggiungere un pezzo a quello che già Deborah e Leonardo hanno detto cioè abbiamo ricordato quello che è successo con Deborah abbiamo ricordato l'importanza di un attivismo che tenti di ricostruire una narrazione condivisa su quello che è successo anche dolorosa anche faticosa ma certamente importante per non dimenticare appunto e per costruire degli strumenti alternativi di contrasto evidentemente Leonardo ci ha aiutato a contestualizzare meglio quello che è successo e a ricostruire quasi filologicamente diciamo così il processo che ha portato da da quel manifesto del 2011 ai manifesti più recenti fino al discorso pubblico e politico Isabella aiutaci a capire da attivista intanto quali sono stati i traumi di quella di quella vicenda e quali sono le risposte anche sul piano intersezionale proprio per cercare di contrastare il suprematismo bianco mi verrebbe da aggiungere maschile o maschio insomma Isabella aiutaci a introdurre anche questo elemento intersezionale grazie ti ringrazio per essere qui con noi grazie grazie mille a tutte a tutti proverò diciamo questo periodo a cercare di tracciare diciamo una linea di quelli che secondo me sono degli elementi di riflessione interessanti partendo appunto da quello che diceva Leonardo prima che insomma mi ha molto colpito e qui mi riallaccio è particolarmente interessante da dove viene brevik nel senso che brevik comunque viene alla fine da da un partito politico il progress party che si identifica se stesso come un partito liberale pur essendo un partito conservatore e di destra e al centro appunto dei suoi scritti più volte eh ricompare appunto l'affermazione che il progress party era vittima di questa intolleranza nei confronti appunto diciamo della popolazione bianca anche all'interno eh della norvegia comunque del dibattito pubblico secondo me eh in questo in questo decennio eh si è parlato tantissimo diciamo di brevik in chiave eh diciamo per riassumerlo peccato che il progress party si abbia avuto questa persona tra i suoi scritti c'è una vergogna che eh brevik venisse comunque dall'interno di un contesto istituzionale pubblico mentre eh secondo me bisognerebbe domandarsi in che modo il progress party ha influenzato il pensiero di brevik cioè in che modo eh la comunicazione politica e anche insomma la parte di propaganda ha influenzato brevik e le sue azioni perché sicuramente non è secondario all'interno spesso del dibattito anche pubblico istituzionale ma anche diciamo quello generalista questo genere eh di azioni anche meno gravi rispetto a quelle di brevik anche quelle no che viviamo tutti i giorni eh di intolleranza e di odio vengono sempre classificate come delle azioni eh isolate come delle azioni che nascono quasi un po' dal nulla che si generano dal nulla e ricorre spesso l'affermazione poi da parte diciamo dei politici di quei partiti che hanno ispirato e che hanno eh accresciuto quel genere diciamo di cultura di cultura di odio a fare un passo indietro e a disconoscere eh come nel caso di brevik i propri iscritti cioè persone che facevano attivamente parte della della vita del del partito anche qualora queste persone rivendicano in maniera continuata e evidente una una appartenenza politica e anche insomma appunto un'ideologia molto precisa eh mentre appunto secondo me bisognerebbe riflettere in che modo all'interno del nostro dibattito pubblico quali sono le responsabilità dei partiti da cui vengono queste persone all'interno del dibattito secondo me per esempio eh su questa linea eh è interessante riflettere sul report che è uscito nel duemilaventuno State of Hate l'estrema destra in Europa dove appunto questa ricerca che è stata realizzata da Hope Not Hate la svedese Expo e della tedesca eh Amedeo Antonio Foundation dove appunto c'è questo sondaggio che è stato effettuato su un campione di ben dodicimila persone in otto paesi europei tra cui l'Italia, Svizzera, Francia, Germania, tra questi e eh riporterei il discorso legato a Breivik in Italia perché appunto viene rilevato eh quello di cui stiamo parlando stasera cioè questo disincanto politico ma soprattutto una profonda avversione antisistema che sono eh particolarmente pronunciati soprattutto in Italia e in Francia addirittura il settantanove per cento del campione italiano eh dichiara apertamente una versione antisistema quindi diciamo al di là eh di azioni noi viviamo in un contesto eh sociale e politico in cui un certo tipo di discorso d'odio degli ultimi anni ha avuto un impatto significativo tanto è vero che quasi l'ottanta per cento dei dei cittadini dichiarano una versione addirittura antisistema cioè dichiararsi la domanda del del sondaggio tra l'altro perché a me piace andare a vedere domande sondaggio eh usava apertamente questo tipo di tipologia di gergo cioè quando una persona si arriva a definire antisistema una cosa che negli anni settanta negli anni ottanta avrebbero diciamo in cui si sarebbero identificate solamente una parte minoritaria della popolazione definirsi antisistema o addirittura contro il sistema eh precostituito e e sicuramente in questo senso anche tutto il discorso delle destre ma anche il discorso pandemico ha avuto un certo senso ha fatto prosperare tutti i discorsi di estrema destra tant'è vero che anche appunto nel negli ultimi sondaggi di Vox per quanto riguarda le speech in Italia abbiamo avuto un drastico aumento del sentimento antisemita che era una cosa che fino al 2015 diciamo solamente il se non sbaglio il 2,9% della popolazione eh negava l'esistenza dell'olocausto adesso siamo arrivati a quasi un italiano su sei una cosa molto preoccupante nel 2021 però questo genere eh di nuova conoscenza che si va costruendo di sentimenti radicalizzati ha moltissimo a che fare con la propaganda politica e che porta diciamo nello specifico in Italia ad avere come eh primo partito diciamo eh attualmente nei nei punti di sondaggio diciamo tra i principali partiti quello di Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia che al suo interno ovviamente ha all'interno partiti perché diciamo ricordiamo che da un punto di vista politico negli ultimi anni i partiti italiani dichiaratamente di destra come Casa Pound e Forza Nuova non sono più partiti politici in senso stretto e che quindi diciamo Giorgia Meloni è diventato eh l'aggregatore di questa leadership eh sovranista che eh addirittura vorrebbe diciamo da un punto di vista di studi eh per le dichiarazioni e posizionamento vorrebbe importare un pochino il modello ungherese eh all'interno del sistema italiano. Questo per dire che eh diciamo tutto il discorso appunto legato a Brevik secondo me dobbiamo un pochino recuperarlo in quella che è la nostra coscienza collettiva e cioè di dire fenomeni come quello di Brevik in che modo si sono inseriti all'interno di un discorso politico addirittura di un partito che è all'interno di un'istituzione quindi parliamo di un movimento assistante eh di un piccolo gruppo come appunto diceva Leonardo eh esclusivo delimitato di persone che professano un certo tipo di modo in che modo si ha avuto un impatto dei discorsi d'odio anche all'interno della politica. Eh c'è stato un progressivo estremizzazione del discorso del discorso politico anche in chiave intersezionale sempre diciamo nel primo citato sondaggio di Vox ho citato l'odio antisemita ma al primo posto nelle speech in Italia c'è il discorso misogino che batte ogni record da un punto di vista eh di speech e negli anni sta eh aumentando notevolmente eh i propri numeri e questo si ricollega a un discorso dell'estrema destra che negli ultimi anni soprattutto nei confronti eh delle donne o della comunità LGBT plus ora stiamo assistendo al dibattito pubblico per esempio per quanto riguarda i ddl e zan eh ha visto diciamo la costruzione di un'identità del diciamo del del maschio bianco non all'interno di quelli che sono i propri connotati intrinsechi ma per diciamo per differenze per esclusioni di quelli che sono stati individuati come i soggetti nemici cioè secondo me eh stiamo assistendo a una sorta diciamo di shock postcoloniale all'interno di quella che l'identità dei singoli che rivendicano la loro nuova identità sociale diciamo persi i punti di riferimento una seconda crisi economica un momento pandemico all'interno quelli che sono elementi di esperienza individuale questo sicuramente è un tratto che contraddistingue se vogliamo un pochino la politica eh degli ultimi anni cioè la costruzione di un in group cioè la definizione di un gruppo politico attraverso quelli che sono le differenze in negativo di un cosiddetto diciamo out group che appunto è stato dato da quelli che sono appunto dei movimenti a livello anche poi non vorrei eh entrare troppo nello specifico però anche all'interno a quelli che sono diciamo tutte questioni a livello di di geopolitica però appunto c'è stato questa sorta di shock postcoloniale che è stata importata nel sentimento identitario e quindi l'identità dell'elettore si costruisce sull'invasione si costruisce su questi presunti diritti delle persone omosessuali di non essere picchiate per strada si costruisce eh contro queste diciamo eh nazi femministe per esempio un altro elemento riallacciandomi al discorso di Leonardo Bianchi eh è come il linguaggio che era appannaggio di determinate eh cerche molto definite all'interno per esempio anche della Manosfer di cui sicuramente il collega Matteo Botto dopo potrà dire molto di più sono entrate all'interno del linguaggio mainstream per esempio la definizione nazi femminista era qualcosa che io prima leggevo solamente all'interno dei forum diciamo mi era dedicata solamente in maniera speciale dai miei fan speciali ecco non era una cosa che sentivo dire all'interno di un consesso mainstream invece adesso la terminologia nazi femminista addirittura viene utilizzata da alcune da stesse femministe nel parlare di se stesse che è un pochino quello che è successo ricollegandomi a Brevich ma in generale all'Europa quando abbiamo iniziato a importare soprattutto in Italia la parola clandestino all'interno del dibattito sulla migrazione c'è il momento in cui una parola specifica utilizzata con un preciso indirizzo politico e anche una precisa visione perché clandestino porta una visione molto forte di cos'è il movimento migratorio viene importato nel discorso pubblico addirittura i discorsi politici e allo stesso modo per esempio succede cosa sta succedendo con la parola nazi femminista è diventata una parola mainstream per definire un certo tipo magari di attivista e un certo tipo un certo tipo di pensiero e quindi secondo me sarebbe importante riflettere di quelle che sono effettivamente le responsabilità del discorso politico che noi andiamo assimilando di come le emozioni come la paura e la rabbia sono state utilizzate in maniera massiva all'interno di questo discorso politico per cercare di aggregare di aggregare voti e poi con la rabbia e quella paura che sono state utilizzate come leve di comunicazione sono rimaste sono rimaste in circolo questo ovviamente avvantaggiato da diciamo elementi architettonici per quanto riguarda il discorso digitale che è quello appunto che voi ben conoscete della polarizzazione del discorso online cioè uno dei temi di riflessione secondo me di brevich è l'utilizzo allora dieci anni fa adesso moltiplicato per centomila del digitale per diffondere diciamo su scala internazionale quelli che sono determinati pensieri addirittura appunto il manuale dell'attentatore questa cosa noi la vediamo diciamo in piccolo però in realtà molto più in grande all'interno di quelli che sono i comportamenti quotidiani del delle persone all'interno appunto della della sfera digitale del del suo utilizzo per la propagazione di discorso d'odio dico in piccolo ma in grande perché ovviamente brevich nel bene il male o anzi solo nel male è comunque come posso dire vorre utilizzare delle parole appropriate è un punto massimo diciamo della dell'esplosione in tutti i sensi del suo pensiero ma noi stiamo normalizzando invece le micro aggressioni non solo online ma anche offline in maniera quotidiana e le stiamo esportando anche per esempio attraverso la condivisione magari spasmodica di alcuni video di violenze che acquistiamo per esempio negli ultimi tempi a livello di homo lesbobitransfobia noi stiamo vivendo un incremento degli episodi di violenza il che insomma è abbastanza peculiare e stiamo esportando in qualche modo cioè queste micro aggressioni o aggressioni mi domando appunto come la riterrazione la visione anche l'educazione al al mostrare come si può aggredire una persona come farla sentire instabile proprio l'idea di educare il branco e agire insieme perché uno dei punti di brevic che appunto non su cui e qui concludo il mio intervento e che secondo me non andrebbe analizzato il fenomeno ovviamente come parlando di una persona singola che ha un'azione a un certo punto estrema ma come una persona inserita all'interno di un contesto sociale influenzata da un contesto sociale e che pertanto agisce come branco e non come singolo perché il branco è andato a formare quella che la sua visione è andata a supportare le sue idee di odio e l'ha fatto sentire legittimato a portare diciamo fino alla fine quello che il suo pensiero e noi diciamo purtroppo il modello brevic lo importiamo tutti i giorni all'interno di quelle che sono le micro aggressioni cioè il branco convalida il sentimento la cultura politica porta le persone diciamo anche insegnarli diciamo alcuni alcuni tipi di di paure di aggressività e di strumenti dialettici e quindi come branco noi abbiamo una responsabilità sociale al cui all'interno facciamo parte grazie isabella borelli per i tanti spunti che ha offerto tutti meriterebbero degli approfondimenti a partire dal linguaggio e io la linguista insomma mi 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 trovi ovviamente d'accordo sul fatto che le parole non da oggi alcune parole reiterate utilizzate in molti contesti hanno avuto un peso hanno un peso ma ci sono alcune cose che vorrei mettere in evidenza del ragionamento e che spero mi permettano anche di avvicinarmi al ragionamento di matteo che introdurro tra poco di matteo botto che introdurro tra poco ci hai aiutato anche a ragionare l'aveva già fatto leonardo ma ci ha aiutato tu ad aggiungere degli elementi sulla diciamo così sul contesto in cui probabilmente è nato e cresciuto anche il l'ideologia di brevica a cui si ispirava con la quale poi ha scritto il suo manifesto cioè il partito del progresso evidentemente c'era anche un sostrato politico culturale da cui lui ha tinto molti elementi non ultimo quello della sostituzione etnica e certamente non la strage quella questo lo dicono i giudici norvegesi è stata farina del suo sacco è stato un attentatore isolato ma la produzione di quel materiale come abbiamo già detto più volte invece arriva da diverse fonti mette insieme diverse fonti quindi un quel tipo di ragionamento sul contesto che produce anche degli attentatori isolati ma appunto non isolati in quanto indipendenti diciamo così da un contesto di pensiero ideologico che si è andato rafforzando e consolidando nella società il secondo elemento importante secondo me hai fatto benissimo a ricordare quel rapporto state of age che è un importantissimo rapporto che per la prima volta grazie alla sua quantità di analisi ci permette di capire come a livello transnazionale l'estrema destra in europa comunichi e condivida gli stessi strumenti e addirittura anche le stessi le stesse metafore gli stessi linguaggi le stesse immagini quindi non si tratta soltanto di movimenti indipendenti legati a un contesto nazionale ma certamente ci sono dei dei discorsi che viaggiano a livello continentale che si trasmettono sono molto efficaci evidentemente se producono quel tipo di consenso a cui tu hai fatto anche cenno quindi io invito chi ci sta ascoltando a recuperare questo rapporto molto 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 importante e in questo rapporto appunto si dice che anche la pandemia ha rafforzato punto i ragionamenti e la transnazionalità dei movimenti di estrema destra proprio per quello che tu hai detto quindi l'elemento della crisi l'elemento della chiusura delle frontiere dell'isolamento della della difesa dagli elementi allogeni o esterni un'altra cosa sono contento che tu abbia anche citato la mappa dell'intolleranza di vox diritti che è soggetto fondatore della nostra rete lo ricordo con grande piacere un'altra cosa che mi sembra molto interessante del tuo ragionamento e riguarda la parte di imitazione no dicevi brevi che lui l'ha fatto scientemente ha diffuso il suo manifesto come l'attentatore di crash ha diffuso il suo manifesto sperando che quel messaggio arrivasse non soltanto al governo e alle vittime e alle famiglie delle vittime evidentemente purtroppo ma anche ad altri possibili imitatori o imitatrice di quel tipo di gesto questa è una cosa che purtroppo no abbiamo verificato appunto la tentatore di crash si è ispirato direttamente al manifesto di brevi che questo è un'altra connessione che dobbiamo mettere in evidenza l'ultima cosa che mi pare estremamente importante che rilevano anche i sondaggi le analisi degli ultimi mesi e che l'estrema destra questo tipo di punto di estrema destra che cerca di imporre il discorso sulla sulla sostituzione etnica e sulla costruzione di nemici ha trovato non solo i nemici negli altri negli stranieri ricordiamoci che brevi ha ucciso norvegesi ragazzi ragazzi e ragazze norvegesi non ha ucciso musulmani come lui diceva nel suo manifesto ha ucciso membri giovani norvegesi del partito laborista questo lo ritroviamo questa ricerca del nemico cioè dell'aiutante dell'altro no chi erano questi norvegesi per brevi erano quelli che facilitavano la sostituzione etnica erano quelli che facilitavano diciamo così la diffusione secondo brevi dell'islamismo ma erano autoctoni norvegesi questo tipo di purtroppo di ragionamento si vede molto e molto e sempre più spesso quindi l'attacco a chi aiuta l'altro pensate agli attacchi al a chi fa appunto azioni umanitarie nel mediterraneo anche alle ong alle persone che cercano di prendere le difese dei soggetti attaccati oggetto di discriminazione ebbene anche in questo il discorso di estremo a destra è mutato molto e si è radicalizzato il nemico non è soltanto più chi viene dall'esterno ma è anche un nemico interno che dialoga con l'esterno e questo mi sembra anche sul piano metodologico per noi per la riflessione un elemento importante e a questo punto spero di aver riassunto alcune delle cose che hai detto isabella efficacemente e prova a dare la palla al nostro prossimo ospite che qui presento matteo botto pedagogista dottorando in sociologia all'università di genova si occupa di suprematismo nell'ambito nell'ambito dei men's studies con un'ottica femminista e intersezionale e con un focus specifico sulla rappresentazione mediatica del maschile e appunto della misoginia anche online però matteo botto da studioso credo ci possa aiutare proprio a ragionare su questi elementi di analisi no sulle novità le abbiamo chiamate novità le innovazioni purtroppo no di brevi e del dell'estremismo di destra non soltanto quello che ha compiuto gli attentati ma quello che si può diffuso nel discorso pubblico e politico ebbene cerchiamo di capire perché è stato così efficace da questa diffusione quali elementi di contrasto ovviamente possiamo condividere mettere in campo e quali sono le sfide che ancora ci pone questa memoria questo ricordo di utoria cioè appunto il l'attentatore che in qualche modo nasce all'interno di una comunità che si pensa accogliente diciamo così sana dal punto di vista sociale dell'inclusione ma che invece produce questo tipo di sostato e questo tipo di azione l'azione la quale poi si rivolge criminalmente non soltanto verso l'esterno ma anche verso l'interno e quindi la saldatura di tanti elementi che poi sono quelli che producono la propaganda molta della propaganda di estrema destra transnazionale come ci dice anche il rapporto che è stato appena ricordato matteo voto a te la parola e grazie anche a te per essere qui con noi grazie mille a voi buonasera a tutte dunque io mi sento di assolutamente allinearmi a tutto quello che è stato detto e nel mio intervento cercherò anche di mettere un po in luce quali sono anche i parallelismi e le innovazioni nel senso che abbiamo adegnato prima quali sono le nuove forme ecco anche che vengono fuori quando noi andiamo ad analizzare gli attentati terroristici o comunque gli episodi di radicalizzazione da un punto di vista degli movimenti misogini nello specifico io appunto mi occupo di analisi delle manosphere o quelle comunità che per chi non le conoscesse sono composte principalmente da uomini che sono una che ha un sentimento antifeminista e quindi proprio esattamente come un parallelismo con quello che i momenti di estrema destra o comunque di alt-right dicono ossia dobbiamo difendere la nazione i movimenti misogini molto spesso presentano una sorta di compenetrazione con questi movimenti di alt-right si artiamo con i movimenti di alt-right aggiungendo anche l'elemento dobbiamo difendere l'identità maschile perché oggi l'uomo non può più avere la sua identità positiva perché comunque c'è il femminismo che sta cercando di costruire tutto ci sono queste persone come me e isabella che studiano gender studies e vogliono costruire la società e quindi poi ecco che arriva quello che appunto c'è l'eurasia di cui ci ha di cui ci ha parlato leonardo quindi di conseguenza hanno degli tanti elementi che li accumulano con questi movimenti di alt-right per esempio anche questo elemento centrale dell'emozione della rivendicazione personale della rivendicazione del di un personale senso di ingiustizia io penso che questa cosa sia ingiusta quindi reagisco in una maniera anche molto violenta perché avendo questo sensazione che viene definito anche grieve entitlement quindi questa percezione che ci sia un diritto che io ho che mi è stato però tolto tradotto in italiano sarebbe una letteralmente un diritto offeso questi uomini che agiscono in queste piattaforme a effettuano poi questi attacchi diretti nei confronti di personalità che sono semplicemente o donne che però non sono non si comportano nel modo che loro si aspetterebbero oppure anche personalità femministe vengono improntati proprio questi attacchi per questo comune pensiero antifeminista che caratterizza la meno perché l'altro elemento importante che c'è da dire e che porta anche un elemento proprio di novità nello studio di questi fenomeni è l'ideologia che tiene insieme tutte queste persone che frequentano la meno dalla persona dell'estima destra alla persona incel che in modo di noi già sentito parlare la persona che è pick up artist quindi quelli cosiddetti trovati letteralmente artisti del rimorchio cioè che condividono tecniche di situazione eccetera quindi che cos'è che tiene insieme di queste community queste community sono tenuti insieme questi gruppi sono tenuti insieme dalla cosiddetta teoria della red pill che si chiama così perché prende la metafora di matrix per cui loro dicono noi abbiamo come proposto in matrix preso la pillola rossa cioè quella che ci fa vivere una scomoda verità ma che è una verità e quindi siamo tra virgolette stati illuminati da questa verità mentre invece la blue pill è quella pillola che che prendono le persone femministe che vogliono vivere in una comoda bugia quindi in sostanza cos'è che caratterizza quindi questo nuovo filone di questo nuovo questi nuovi movimenti misogini e che li affiancano all'hard right al fatto che penso che sia estremamente chiaro nel momento in cui noi prendiamo come esempio questo manuale che è stato vedato da brevik loro cercano di produrre tutta questa conoscenza red pill che è mostruosamente molto ampia giustificandola con dei studi accademici di psicologia evoluzionistica che sono stati però già superati oppure prendendo dei veri e propri paper accademici per cercare di andare a giustificare le proprie posizioni misogine ma ovviamente interpretando in maniera errata quindi siccome loro hanno questa visione del genere come estremamente radicata nella biologia per cui per loro esiste una natura maschile femminile che è sempre stata uguale dall'inizio dei tempi e che non cambia a seconda del contesto storico questo eh del contesto geografico loro contestano apertamente questa visione di genere come consulto sociale loro eh contestano quindi apertamente il femminismo e ehm si affiancano addirittura in certi casi diventano delle può trasformarsi in una vera e propria teoria del complotto per cui abbiamo qua non che pensa che ci sia questa governo di pedofili satanisti che governano il mondo e tramano la loro fila eh nelle istituzioni abbiamo i red pillar che pensano oltre in certi casi a essere anche degli anon pensano anche che ci sia il femminismo che abbia una propria agenda che vuole portare avanti una propria policy per continuare a decostruire il maschile decostruire l'occidente per sì che ci sia questo multiculturalismo visto in maniera così negativa quindi abbiamo questa politica dell'emozione che parte da una rivendicazione personale per cui è vero che tante persone dicono che eh anche in se che hanno fatto attacchi basta pensare ad esempio a quello che è stato un attacco che è stato sventato a Savona a gennaio di quest'anno eh partano da una rivendicazione estremamente personale in realtà mi mi affianco tantissimo con quello che ha detto Isabella perché è vero che c'è questa logica del eh l'uomo solo che mh agisce questi comportamenti ma in realtà lo fa perché sa di avere un supporto dietro sa che è comunque sa di avere un gruppo che frequenta molto spesso pensiamo anche piattaforma che mi sono stato menzionato il 4chan e in certi casi Reddit eh dove hanno potuto apprendere tutte queste nozioni tutte questi eh concetti di dove hanno potuto trovare la propria scuola di radicalizzazione per poi agire e quindi di conseguenza è anche molto importante dire anche su questo mi affianco a quello che è stato detto che non sono casi isolati perché molto spesso anche quando sentiamo parlare di questi uomini che odiano le donne che a volte devono definiti in maniera estremamente superficiale così vengono identificati come persone con dei gravi problemi come dei pazzi dei malati in realtà eh vedendo anche la grandezza del fenomeno e vedendo che comunque questi sentimenti sono anche presenti in tante altre piattaforme oltre a Reddit e 4chan che siamo ad esempio al Gab che viene definito anche il Twitter dell'estrema destra dove ci sono la bellezza magari di trecentomila bassa persone che seguono anche solo un utente viene difficile pensare che ci siano trecentomila malati tutti insieme coordinati in realtà abbiamo delle vere e proprie influenze culturali e e quindi che ci portano a capire che abbiamo un problema culturale non abbiamo un problema con alcune persone che sono erroneamente dette pazze abbiamo un problema proprio a livello di cultura che continua ancora oggi a instillare a formare a promuovere messaggi misogini che possono arrivare anche a questa a questa forma estrema perché come diceva Deborah prima non è che queste cose nascono nel vuoto si alimentano di vuoto però allo stesso tempo ci c'è qualcosa in qualcosa che preesiste che le favorisce e quindi di conseguenza eh non abbiamo tanto in questi gruppi una una presenza di eh rivendicazioni nazionaliste quanto di rivendicazioni estremamente misogine per cui la donna deve stare al suo posto eh l'uomo invece deve avere diritto alla propria sessualità e infatti non a caso gli incendi che sono i cosiddetti involontari celibate sono una componente estremamente forte di queste di queste community e mh può sembrare adesso ho tratto ciò cercato di dare in pochissime parole una breve panoramica di quello che è la manosphere di quello che è la reddi di quelli che sono gli incel ma eh per cercare anche di collegarmi molto con quello che è l'oggetto del nostro panel eh è giusto dire che non si tratta solo quindi di fenomeni estemporanei parliamo proprio di veri attacchi terrori o fenomeni che vengono solo online per esempio nel duemila quattordici come ha ricordato anche Leonardo nel suo articolo ehm abbiamo un attacco che è avvenuto per mano di Elio Troger a Isla Vista dove sono morte sei persone che è stato poi ehm ripetuto a Toronto per mano però di un'altra personale in Aschen dove invece sono morte dieci persone ehm l'aspetto che è interessante notare che mette un forte legame con i movimenti di estrema destra e che anche nei questi movimenti incelerentil c'è un processo di identificazione degli attentatori infatti questo Elio Troger che quello che nel duemila quattordici è stato uno dei primi che ha fatto anche ha scosso molto il dibattito pubblico che ha portato alla luce questi questi problemi questo problema della radicalizzazione misogina è visto proprio come una sorta di divinità infatti anche lui come San Breivik viene definito San Roger il il gentiluomo viene anche chiamato e quindi di conseguenza questi sono solo due episodi ma in realtà se andiamo a vedere i report in USA e in Canada sono avvenuti almeno cinquanta morti sono 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 morte meno cinquanta persone da quando ha cominciato a nascere il fenomeno Manosphere che tendenzialmente è nato all'interno nel duemila nove che si è strutturato poi ancora di più nel duemila e dodici perché è uscito proprio il libro che parla della teoria Red Pill che si chiama proprio The Manosphere per mano di Ian Ironwood quindi in sostanza si accumulano molto con l'alt-right per il fatto che vedono che c'è un pericolo un pericolo esterno che nel caso dell'alt-right mette questo pericolo esterno con una una grande enfasi sul discorso popolazione musulmana nel caso invece della Red Pill e del movimento Insel abbiamo invece un'enfasi sul femminismo ma molto spesso come detto si compenetrano e di conseguenza quindi gli attacchi non avvengono proprio nei confronti di persone musulmane ma principalmente online e offline ai danni di persone femministe c'è quindi questo processo di identificazione e abbiamo detto appunto che c'è questa visione proprio della 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 Red Pill della teoria Red Pill come una teoria che non è come potremmo definire una sorta di populismo scritto con un elenco puntato a quattro punti è proprio una guida molto ben specifica con tante di fonti accademiche di bibliografia e purtroppo nel caso in questo caso è vero che potrebbe sembrare diverso rispetto a manuale d'attentatore dove invece nel manuale d'attentatore di Brady abbiamo proprio le istruzioni su che cosa fare non su come concepire il mondo ma in realtà se andiamo a vedere anche altri studi che sono stati fatti che si collegano molto al discorso minor fear specificatamente nei gruppi telegram c'è uno studio fatto proprio da Silvia Semenzini e Lucia Bainotti che sono andate a fare un'etnografia all'interno di questi ambienti online dove vengono condivise da questi gruppi composti solo da uomini immagini di donne intime condivise in maniera ovviamente non consensuale dove è stato riscontrato anche che c'è un database di tutti i dati personali delle donne che sono state attaccate o di cui sono condivise le foto in questi gruppi e tanto che questo database viene definito la Bibbia quindi è vero che non abbiamo magari un manuale dell'attentatore misogino ma intanto in questi gruppi dove c'è per mai ancora questa narrazione del Long Wolf c'è invece un gruppo molto ben strutturato che non solo partecipa all'ampliare sempre di più rendere sempre più strutturata questa perioda della Red Pill ma intanto aiuta anche a altre persone a ottenere dati sensibili privati e non condivisi consensualmente di persone a cui intenzionalmente si vuole agire violenza molestia e discriminazione quindi è molto efficace questo fenomeno perché sfrutta l'anonimato online che è molto visibile appunto in carta forme di image board anonimo come 4chan e ichan e come contrasto ovviamente bisognerebbe cercare di fare il più possibile a livello legislativo ma soprattutto a livello culturale perché comunque è evidente quanto questo vuoto sia un vuoto principalmente educativo culturale e lo dico anche non solo come studioso di questi fenomeni ma in questo caso anche come pedagogista e anche se ovviamente è giusto riconoscere che quando parliamo di questo abbiamo un'enorme difficoltà in Italia perché basta seguire il debattito sul DDL ZAN che sta avvenendo in questi giorni si sta parlando di eterofobia si sta parlando di insegnare ai bambini a masturbarsi c'è tutta questa inondazione di fake news cosa sul DDL ZAN che portano addirittura i nostri politici a cui noi paghiamo le tasse a agire delle vere e proprie microaggressioni in Parlamento quindi non stiamo parlando di un gruppo anonimo su Telegram stiamo parlando di persone che come me come Isabella come Leonardo sentiamo questi discorsi e vediamo proprio questi attacchi frontali da parte anche della politica pensiamo ad esempio al caso di Pilon che è il più emblematico quindi purtroppo anche chi oggi oggigiorno sta facendo educazione al rispetto educazione emotiva educazione sessuale in tutte le sue forme nelle scuole trova tantissimi ostacoli anche per questo perché a livello culturale stiamo trovando davvero delle difficoltà enormi anche solo iniziare a parlare di questi temi quindi questa sicuramente la sfida più grande vedo in maniera molto positiva all'agire singolo e poi di piccoli gruppi che da online cercano di fare questo grassroots activism dal basso per cercare di far sì che le nuove generazioni possano avere sempre più consapevolezze perché anche parlo nel mio caso specifico dei men's studies purtroppo ci sono anche molte persone che cavalcano questi argomenti per proprio tornaconto personale e in quanto uomini parlano di men's studies e parlano quindi di dinamiche di genere senza avere consapevolezza in merito e vanno quindi a cercare di riempire quel vuoto in maniera negativa quindi la sfida che abbiamo come società è parte dall'individuo per cercare di contrastare questi messaggi online estremamente forti che stanno le stanno sono sempre più diffusi e poi anche ovviamente sfidare lo status culturale in cui noi viviamo che porta veramente grandi difficoltà non solo a organizzarsi e a pensare per porsi nelle scuole dal rispetto ma addirittura a riuscire a entrare perché molto spesso questi progetti già esistono penso ad esempio Virgin and Martyr che è un progetto che ha portato tantissimi progetti educativi nelle scuole ma che ovviamente come tanti altri ha incontrato tante resistenze quindi la sfida è proprio questa e noi come come persone che conoscono queste che lavorano su questi temi conoscono questi temi abbiamo proprio anche la responsabilità di parlarne sempre di più per contrastare chi invece ne parla in maniera errata e che continua a ricalcare una scuola grazie Matteo per il tuo intervento tra l'altro noi come rete lavoriamo proprio in questo senso cercare di approfondire dare elementi di analisi di contrasto ma anche di conoscenza di consapevolezza su questi temi speriamo di riuscire a farlo in modo efficace siamo intervenuti pubblicamente anche politicamente insomma in senato come rete nelle addizioni sul ddl zan e quindi siamo anche noi soggetto di attacco che viene attaccato anche per le posizioni pubbliche che ha rispetto a questi temi quindi grazie per aver ricordato anche questi elementi e per averne ricordati tanti che e da un lato espandono ragionamento che abbiamo cercato di iniziare stasera sui dieci anni d'autoria e cioè ci fanno capire come l'estremismo è un estremismo alt right ma che in qualche modo però si trasferisce si trasmuta anche su altri temi e andando attaccare anche altre persone abbiamo parlato di estremismo appunto misogino c'è ricordato che l'estremismo misogino non è fatto soltanto di parole ma purtroppo anche di aggressioni e anche di omicidi questo ce l'hai ricordato e fatto bene ricordarcelo come c'è ricordato tra l'altro e io trovo molto interessante questo spunto non so se lo stai approfondendo anche nei tuoi studi questa dimensione mitologica quasi deificata diciamo così del discorso e delle gerarchie all'interno di questi movimenti cioè tu hai parlato di deificazione di brevi ma anche altri di di altri ideologi nodi dei movimenti misogini hai parlato di bibbia per quanto riguarda i manifesti che vengono diffusi condivisi quindi come se ci fosse la creazione di una mitologia che in qualche modo rafforza il senso di solidarietà interno e che anche trova degli elementi che vadano oltre la razionale ma la cosa interessante che tu hai aggiunto è che non c'è soltanto l'elemento diciamo così mitologico misticheggiante anzi questi elementi ed è una novità che come diceva anche leonardo ha introdotto brevning sul manifesto cercano di appoggiarsi a studi a documenti già pubblicati che legittimino in qualche modo appunto loro un pianto ideologico addirittura andando a prendere degli studi accademici o cosiddetti accademici per dire guardate abbiamo anche noi le nostre fonti solide quindi siamo nel giusto se facciamo questi ragionamenti quindi tantissimi elementi di riflessione stasera io credo utili non soltanto per ricordarci quello che è successo dieci anni fa la strage di l'uccisione di 77 persone in due attentati uno a oslo e uno sull'isola di utoria per mano di un estremista di destra anders brevnik che appunto pare abbia agito da solo ma che probabilmente come l'ho detto anche gli atti processuali come abbiamo cercato di raccontare noi stasera agiva in un sostrato all'interno di un sostrato ideologico politico che certamente non si era costruito da solo e che comunque ha prodotto un trauma un trauma per quel paese per quella generazione di attivisti attiviste ha prodotto un trauma e una rottura in termini di discorso che è diventato trasnazionale sul piano dell'estrema destra e sul piano dello stragismo del discorso d'odio che diventa crimine d'odio stragista appunto in un paese ma che si può trasferire duplicare anche in altri paesi proprio perché si appoggia su manifesti su contenuti che sono condivisibili anche grazie alla tecnologia è stato detto ricordato più volte l'attentato di Christchurch che appunto ha fatto più di 50 morti e le uccisioni le morti legate comunque a questi impianti ideologici che non soltanto non sono soltanto sovranisti nazionalisti ma anche misogini che quindi intersecano degli elementi d'odio e appunto delle rivendicazioni che in qualche modo poi vanno a tradursi in una solidarietà estrema del gruppo che agisce ma anche in una ricerca continua del nemico e dei nemici e quindi anche degli amici dei nemici non so come dire per usare questa immagine che certamente di nuovo ha introdotto degli elementi che ritroviamo tra l'altro nelle nei sondaggi nelle analisi che anche la rete compie su questi argomenti quindi io credo e mi auguro che voi siete soddisfatte soddisfatti insomma di questo intreccio di ragionamenti abbiamo incominciato a riflettere su questi temi ricordando questo anniversario che purtroppo non viene ricordato tanto quanto altri anniversari in questi giorni è anche normale che sia così visto quello che è successo a genova vent'anni fa ma certamente il 2011 quel 22 luglio del 2011 è stato un trauma è stata una tragedia intanto per le vittime e le loro famiglie bisogna ricordarlo questo io come coordinatore della rete anche nei miei lavori e anche come appunto per quello che facciamo come rete dico che è sempre abbiamo bisogno di ricordarci che di fronte a tutto questo ci sono sempre delle vittime delle persone che hanno perso la vita delle famiglie che hanno perso delle persone amate e un trauma che si trasferisce anche sulle vittime indirette chi era lì ma chi è sopravvissuto appunto è stato ricordato il film di paul greengrass chi è e chi non era lì ma comunque faceva attivismo e politica in quegli anni ed è uno degli elementi che emergono anche dalla ricostruzione della memoria intorno a genova tra l'altro non il trauma generazionale che queste cose possono produrre ecco abbiamo cercato di mettere insieme degli elementi io credo ci siamo riusciti ovviamente le possibilità di di espansione di approfondimento sono infinite anche grazie ai tantissimi stimoli che avete offerti sto cercando con un occhio delle domande sulla pagina facebook non ne vedo non ne vedo e appunto se non vedo domande non forzerò diciamo le persone che ci ascoltano a farle ma mi sento di dire che appunto abbiamo bisogno di approfondire questi temi non soltanto come diceva debba all'inizio e provo a chiudere un po cerchio la riflessione per provare a avere una memoria condivisa e anche una condanna unanime rispetto a certi fatti perché bisogna che questo sia chiaro stiamo parlando di stragi stiamo parlando di omicidi stiamo parlando di istigazione a commettere crimini nei confronti delle persone e però c'è anche un elemento di analisi che dobbiamo approfondire quali sono gli elementi che si riprendono da un manifesto all'altro qual è il discorso transnazionale che circola quasi in modo impudentemente quasi senza senza training perché le piattaforme spesso non possono fare molto infatti la nuova zelanda dopo crash si è dotata di una giurisprudenza molto severa rispetto alle piattaforme sulla diffusione condivisione di manifesti come quello dell'attentatore di crash quindi la riflessione va anche fatta lì dobbiamo fare anche evidentemente una riflessione sui nuovi motivi che stanno emergendo trasnazionali intersezionali e anche di mitologie di destra di estrema destra che si stanno costruendo intorno al nemico all'odio verso l'altro che non è soltanto un altro una categoria soltanto le categorie possono essere diverse ma le modalità in qualche modo si rappresentano non dico allo stesso modo ma certamente con dei punti di contatto vedo nella nostra chat interna Isabella deve lasciarci sì e quindi io non vedo domande sul su facebook e se posso lasciarvi l'ultimo commento finale se volete aggiungere qualcosa Isabella non ha molto tempo ancora ti ringrazio Isabella se devi sganciarti fallo quando quando lo ritieni opportuno grazie davvero per aver partecipato con noi stasera a questa discussione spero che sia stata utile anche per te e certamente per noi lo è stata raccogliere la tua voce e le tue riflessioni e ringrazio anche matteo botto leonardo bianchi debora barletta e ripeto Isabella borelli per i loro contributi e i loro approfondimenti che ci offrono tantissimi stimoli e come rete noi in autunno riprenderemo proprio la riflessione sull'estremismo di destra transnazionale all'interno di un altro appuntamento che faremo credo grazie anche all'università di bologna e al che un soggetto tra l'altro dove abbiamo dei soggetti fondatori di rete vi lascerei se volete l'ultima parola o per un saluto per un commento finale e io appunto vi ringrazio ringrazio moltissimo che ci ha ascoltato su facebook visto anche che la diretta è stata condivisa diverse volte quindi avremo molte persone mi auguro che ci stanno ascoltando grazie mille ancora grazie per l'invito prendo io la parola perché purtroppo devo staccare per c'è un altro evento sempre sulle tematiche di genere e quindi ancora grazie di avermi invitata per me è stato è stato molto bello poter dialogare con i colleghi e le colleghe e tra l'altro ho imparato tantissimo e sì secondo me diciamo per per chiudere è importante continuare questo tipo di ragionamenti in maniera collettiva individuale siamo come attiviste diciamo nella pratica quotidiana ma anche poi a livello di studio e divulgazione e anche andarsi forse un pochino a interrogare sul fatto che dall'altra parte diciamo così c'è un linguaggio incredibilmente forte lancio questa palla incredibilmente estremo in quel caso mentre chi invece promulga idee progressiste diciamo questo in europa in italia specialmente vive un pochino il terrore di dover utilizzare alcune parole di dover utilizzare un linguaggio forte radicale diremmo diciamo per la parte progressista è anche forse un tema di diffusione e cioè mi interrogo se le cose e parlo a nome mio perché ovviamente solo a nome mio posso parlare le cose di cui mi occupo se non vengono diffuse con forse con un linguaggio non accessibile mentre uno dei punti di riflessione per quanto riguarda le estremizzazioni delle destre anche che ho tutta una serie di teorie alcune diciamo per quanto fantasiose anche molto complesse invece vengono divulgate con un linguaggio estremamente semplice e con una conoscenza anche del dei mezzi digitali profondissima basti pensare per esempio a tutta la simbologia meme di trump e in tutta la parte appunto ideologica di quello che ha a che fare trump cioè di come la cultura di internet di nicchia penso a pepe de frog innanzitutto sia stato diciamo un potentissimo amplificatore di tutta una serie di teorie che hanno anche una grandissima complicità quindi non è che noi stiamo parlando di persone che diciamo non hanno una scolarizzazione o che non sono capaci perché appunto come parlava anche matteo botto le molte teorie della manosfera sono anche molto complesse diciamo hanno anche poi un stato molto complesso di ragionamento quindi uno dei temi su cui mi interrogo e se appunto l'accessibilità invece di del lavoro che faccio io che facciamo tutti noi qui qui in consesso grazie isabella devo dirti che un cruccio che abbiamo quotidianamente almeno all'interno della nostra rete e speriamo di poter arrivare sempre più persone sia con queste riflessioni sia anche con degli strumenti di contrasto a quello che sta succedendo leonardo debba matteo una battuta finale se volete sì volevo solo aggiungere una cosa a quello che avevi detto tu federico cioè sul fatto che è poco ricordato qua io direi che proprio non è ricordato cioè perché questo tema in italia cioè il tema della violenza di estrema destra del neoterrorismo bianco che ha delle specifiche delle caratteristiche molto specifiche non esiste anche quando avviene non esiste proprio a questo proposito questi giorni proprio mi sono ricordato della della prima pagina del giornale che era uscita il 23 luglio che diceva sono sempre loro ci attaccano per loro non intendeva i nazisti però intendeva musulmani quindi se queste queste sono le premesse da cui parte il discorso in italia c'è un discorso in cui non è contemplato una cosa del genere quando succede come è successo a macerata e ancora prima a firenze con casseri un altro simpatizzante di un partito di estrema destra che commesso una strage razzista non succede mai niente cioè si nega alla radice la matrice politica del dell'evento cioè al massimo è un pazzo come era successo con a firenze o addirittura in nel caso di macerata non è nemmeno un pazzo qualcuno che ha sbagliato mira magari ha fatto una cosa un po così ma insomma il vero problema non è lui il vero tra l'altro che va in giro a sparare alla gente per motivi razziali il problema è che ci sono i migranti in questo paese che creano dei fastidi che è una bomba sociale quello l'ha detto anche di maio dopo la strage comunque una parte di cinque stelle hanno detto per dire che non è solo un discorso di estrema destra ma è molto più normalizzato e mainstream e quindi si rimuove completamente dell'orizzonte politico ma io direi anche proprio mentale in generale l'esistenza di un fenomeno del genere finché fatalmente non succede e può succedere ancora c'è il punto il fatto che è già successo vuol dire che può succedere ancora di nuovo perché già già quella prima pagina giornale era quasi una proghiazione psicologica nel senso è impossibile che succeda una cosa del genere devono per forza essere i soliti no non sono neanche i soldi ma vabbè quindi viene rimosso dall'orizzonte finché il fatto che sia già successo e non viene riconosciuto che è successo vuol dire che può succedere di nuovo esattamente qua proprio chiudo esattamente il problema che a dieci anni di distanza dal dal tentato di si sta riproponendo in norvegia attorno alla costruzione del memoriale per la strage di di oslo perché da una parte ovviamente i familiari delle vittime e anche la lega dei giovani socialisti vogliono che sia apposta una stella commemorativa comunque un memoriale un monumento fisico tangibile che ricordi quello che è successo e dall'altra parte dei residenti o comunque altri cittadini di fronte che dovrebbero ritrovarsi a costruzione di fronte non vogliono e non è una questione di diciamo di arred urbano chiaramente ma è una cosa che è andata anche in che stanno in tribunale e però significa che appunto come diceva una come diceva adesso non ricordo il nome l'avevo scritto nell'articolo ma come diceva penso la la parente di una vittima diceva proprio il fatto che è successo vuol dire che può succedere di nuovo e le generazioni che sono venute dopo devono saperlo devono sapere quello che è successo altrimenti il rischio senza che si continui a ripetere ed è esattamente quello che vuole brevi che anche vogliono brevi che insomma i simili e chi è complice da un punto di vista intellettuale di questo tipo di di violenza politica cioè non vuole che sia rimosso dall'orizzonte politico sociale culturale una cosa del genere grazie leonardo perché ha aggiunto degli elementi assolutamente di rilievo il primo come si cancelli rapidamente dalla memoria questo tipo di evento si preferisca non ricordarlo il secondo come si cerchi di giustificare lo stesso il giustificazionismo rispetto alle strage le uccisioni di matrice razzista in italia purtroppo purtroppo è ricorrente e e come anche però sia importante che la memoria e la costruzione di una memoria condivisa sia un processo che coinvolga la comunità e anche lo spazio fisico no un po il discorso anche che si fa sulla sui monumenti sulla statuaria su come deve essere ricostruita una memoria all'interno di uno spazio fisico dove devono convivere sensibilità diverse le vittime e chi probabilmente anche se non lo dice giustifica invece gli omicidi e chi ha commesso i reati appunto questa è una cosa complicata però estremamente importante da discutere perché riguarda appunto la ricostruzione non solo della memoria ma la condivisione dello spazio democratico e civico fisico diciamo così di una comunità attraverso come dicevi tu un monumento o anche un dibattito intorno a quel momento quindi io leonardo ti ringrazio moltissimo anche per aver introdotto anche se con le battute finali ma appunto ci hai dato degli spunti su cui riflettere questi tre elementi che mi sembrano assolutamente di rilievo Matteo e Deborah se volete anche per voi una battuta finale e poi salutiamo perché mi rendo conto che siamo dati oltre il tempo che vi avevo chiesto e promesso diciamo così no grazie ancora che è intervenuto anche intervenuta perché è stato davvero preziosissimo ha ricordato leonardo c'è bisogno di parlare di utoria nel nostro paese non se non si fa e non si fa in generale appunto per quello che riguarda il neoterrorismo bianco e io proprio con poche battute si parlava tanto appunto di come rispondere in maniera individuale e collettiva che ho fatto un accenno molto importante al senso di comunità eh farsi appunto anche tra degli spazi fisici eh costruire un'identità comune collettiva che sia inclusiva e invece che parlato del branco no del branco che si racchiude intorno a questi solitari io per fortuna rappresento una qualità meravigliosa eh di attivisti e attiviste questo quello del noi di speech movement Italia noi come vedete siamo un altro eh diciamo un altro esempio di comunità quindi cerchiamo di sostituire l'idea di branco quella di comunità eh perché appunto il branco alla fine lascia solo le persone brevi che alla fine è solo in prigione ricordiamolo e alcune personalità parliamo di Gert Wilders che era un promotore appunto dell'altislamismo molte persone soprattutto del nord sono dissociate da brevi perché hanno violato ha violato il tabù della violenza che va contro la normalizzazione di quei discorsi che invece politicamente no sono così forti per appunto è brevi che è andato oltre quindi da un lato ha avuto quel successo di ci hanno parlato benissimo Leonardo Isabella Matteo di queste comunità di Cian perché appunto c'è questo progetto della gamification Leonardo ne ha parlato molto ma da un punto di vista politico anzi le persone sono distanziate perché appunto politicamente eh se da un lato appunto i due discorsi sono così presenti poteva creare un problema di di facciata no quindi ricordiamo il branco alla fine lascia soli rimane la solitudine invece proprio di una comunità che sia inclusiva accogliente quell'attivista può essere una e quindi ricordo che noi appunto l'invasione di Tutoia perché non vogliamo che si dimenti Tutoia ma vogliamo che si riporte attivamente lanciamo una campagna anche col patrocinio della rete grazie alla quale cerchiamo di sensibilizzare su questi temi soprattutto il pubblico giovane con linguaggi semplici perché abbiamo questo problema del linguaggio quando si fa linguaggio pro diritti umani e contro discorso d'odio quindi invito chi ci segue ad appoggiare la campagna a diffonderla perché sarà lanciata poi in altri paesi tramite un progetto internazionale guidato al Consiglio d'Europa che appunto è basato sulle narrazioni e discorsi d'odio e che sta cercando di diffondere strumenti pratici per la comunità eh per la società civile gli attivisti e gli attivisti per appunto contrastare i discorsi d'odio attivamente perché c'è tanto da fare si può fare lo possiamo fare quindi un po' di nota appunto di ottimismo che mi sento di lasciare a chi ci ascolta grazie ancora a tutti e tutti eh del panel non so se anche partevole aggiungere qualcosa ma io sono in estasi grazie infinite e a te Federico perché sei un moderatore sempre eccezionale grazie Deborah per aver organizzato questo panel e per questo tuo ultimo commento così anche positivo no di quello che possiamo fare insieme come comunità per contrastare invece eh come dicevi tu anche il il branco che poi produce i suoi mostri eh ma noi invece vogliamo come comunità produrre degli anticorpi diciamo così anche se non mi piace usare questa metafora efficaci soprattutto diceva giustamente Deborah per arrivare alle persone a cui non arriviamo no e anche per cercare di sensibilizzare le persone più giovani che questi e che questi eventi non li hanno non li ricordano perché non c'erano erano molto giovani e quindi bisogna mantenere viva questa memoria proprio perché non si tratta di qualcosa che si è concluso che è rimasto l'isolato nel tempo ma purtroppo si è riprodotto e come diceva Leonardo prima può ancora riprodursi quindi grazie Deborah per il tuo invito anche così positivo Matteo un'ultima battuta a te e poi davvero vi lascio liberi perché credo sia ora di cena dalle vostre parti. Sì velocissimo no dico che eh questo bisogno di occupare sempre più spazio pubblico con questi messaggi con queste narrazioni è proprio evidente anche nel caso delle tematiche relative alla tematiche di genere e diritti delle donne cioè se non se ne parla c'è questa idea non tanto che questi problemi non esistano ma che se esistono non esistono da noi e nel caso anche dell'estremismo bianco è evidente esempio brevissimo giusto perché è emblematico è successo proprio ieri ieri camminando per Genova trovo una persona amica di famiglia non che non vede da cinque anni in tre minuti di discorso si è cominciato a dire eh da narrazioni antivacciniste perché come stai e speriamo che questa cosa finisca perché il mondo va alla rovescia perché infatti adesso vedi che questo di Adele Zanne vuole cambiare tutto quanto questa prospettiva per cui non bisognerebbe semplicemente considerarsi uomini invece si vogliono creare categorie nuove e ci sono anche quelli di sinistra che continuano a parlare di razzismo quando il razzismo da noi non esiste perché altre le dinamiche perché non eravamo noi italiani a vendere gli schiavi ecco in tre minuti questa persona ha vinto il jackpot perché razzismo mobilismo omofobia c'è tutte le altre leccate ecco questo è il pensiero comune su cui noi dobbiamo agire perché se no la persona che ancora oggi volentano lente a questi pensieri non si rende conto neanche di averli perché è educata a questo continua a pensare che invece quelle cose lì non siano problematiche perché i veri problemi sono altrove quindi sì occupare sempre più spazio grazie Matteo allora di nuovo anche con questo invito alla forza dei nostri argomenti per cercare di disarticolare diciamo così questi collegamenti semplicistici anche mi viene da dire appunto infondati no che tu hai ricordato con questo episodio che hai ricordato ecco questo è un po il nostro lavoro il nostro sforzo il nostro obiettivo e con questo obiettivo in mente in testa di nuovo io vi ringrazio quindi ripeto eh Isabella Borrelli ci ha lasciati ma ha contribuito a questa serata Deborah Barletta eh Leonardo Bianchi e Matteo Botto vi ringrazio moltissimo tanti sono gli spunti che certamente cercherò ancora di approfondire come rete anche individualmente come soggetti e speriamo di incontrarci anche faccia faccia magari in qualche luogo d'Italia proprio per portare il dibattito laddove il dibattito non arriva facilmente questo è anche lo sforzo che dobbiamo fare cercare di portare argomenti dove gli argomenti purtroppo non ci sono ci sono tante fallacce diciamo così argomentative che sono quelle che poi tengono no tengono campo e che poi producono quelle quelle narrazioni eh così disarticolate che sono il sostrato da cui possono possono nascere anche episodi come quello che abbiamo cercato di raccontare stasera grazie a chi ci ha ascoltato grazie ancora alla rete a tutti i soggetti di rete e davvero un grande abbraccio a voi e buona eh buon mese di agosto a tutta la rete a chi segue l'attività di rete ci rivediamo con i nostri webinar e con le nostre attività a settembre grazie. Grazie mille a voi a presto. Grazie.